Ciao, buona neve a tutti, visto il periodo vi presento un libro, anzi per meglio dire due libri, Ciaspole, Vivere la montagna d'inverno con le racchette da neve e In montagna con le ciaspole, che è la prosecuzione naturale del primo volume, questo rosso, scritto da Michele Dalla Palma, Cesare Re, edito dalla Epli di Milano. È un libro diviso in due parti principali, nella prima si parla delle racchette da neve, della storia delle ciaspole, dei tipi di racchette da neve, del tipo di neve, quindi il pericolo eventuale delle valanghe, come ci si muove in ambiente innevato, l'organizzazione di una gita, tenendo conto di tutti quei fattori che caratterizzano le escursioni invernali, per esempio la presenza di giornate molto più corte, il fatto che ci sia meno luce, come orientarsi, le varie situazioni che si possono incontrare sul manto nevoso, il fatto che l'escursionismo in periodo invernale sia comunque totalmente diverso da quello estivo. C'è poi una parte dedicata ai vari tipi di racchette da neve, con le varie tipologie, gli attacchi, il rampone, il rostro anteriore, e così via. Stesso ragionamento per l'equipaggiamento e l'accrezzatura che è necessario portare nelle gite, nelle varie escursioni. E poi la seconda parte è quella delle gite che racconta dei vari percorsi da percorrere con le ciaspole, di varie difficoltà, di varia tipologia, con un occhio particolare come sempre nei lavori che faccio su quello che riguarda il panorama, gli animali, la natura e così via. Non mancano poi dei quadri tematici associati alle varie escursioni. Moltissime escursioni hanno poi delle parti che chiamiamo alternative, che raccontano la possibilità di iniziare per esempio un'escursione da una parte, da un paese, e terminarla poi in un luogo diverso, in modo da compiere per esempio dei giri ad anello, in modo che l'escursione sia sempre diversa. Si parla poi ovviamente del periodo migliore per intraprendere le varie gite, le varie escursioni. Il secondo libro, come dicevo, la naturale prosecuzione del primo, anche questo scritto da Michele Dallapalma, Cesare Re, in montagna con le ciaspole, edito da Upli, è invece una raccolta di itinerari su tutto l'arco alpino, quindi in tutte le Alpi, l'Apennino e anche le isole Sicilia, Sardegna e così via. Quindi, in montagna con le ciaspole, Michele Dallapalma, Cesare Re, Upli e Ciaspole, vivere la montagna d'inverno con le racchette da neve, si trova in tutte le librerie, oppure ordinabile online o anche sul sito dell'Aeupli, il sito dell'editore. Ciao, buona neve a tutti! Ciao, buona neve a tutti!